ok ciao stefania siamo qui con am ciao ciao a tutti conto da 51 e ti connetti ad am più profondamente 5 4 3 2 1 è arrivata la vedo e la vedo che arriva su una macchina che sembra una jeep la guida e mi fa vedere questo paesaggio che è un paesaggio sembra diciamo in africa sembra comunque in una zona di desertica ecco ti dà l'autorizzazione sì è un'immagine sua o una vita parallela è una vita parallela ok am e militare no è una donna è una donna è sempre una donna e vive in questo in questo luogo ea che fare con le persone del posto per cui come se offrisse aiuto vedo che si sposta con questo jeep e da delle risorse di cibo di acqua alle persone del villaggio dei vari villaggi decisamente e in zone diciamo al sud del mondo se vogliamo dire potrebbe essere proprio una zona dell'africa bella gli e donna uomo e lei e donna le donne che fosse e a un nome francese josephine come fosse come fosse se non una missionaria però di facesse parte di un gruppo di persone che va in aiuto e soccorso delle persone ma lo fa delle persone del posto lo fa come volontario come lavoro però è da e da anni che lo fa è molto empatica è molto empatica e fa fa questa cosa perché vedo che non può può avere sui 45 e 50 anni e ha lasciato il luogo da cui proveniva per cui si è trasferita proprio lì perché sentiva questo bisogno questo richiamo verso di aiuto verso gli altri ok ha mai già fatto una sessione con me in passato aver interferito l'avete interferita molto molto disturbata si è molto disturbata da cos'esterno quindi si è interferita rispetto alla parte del del pensiero interferenze mentali e anche interferente sul pianeta ricco vediamo se pianeta ricco che interferenze ci sono allora io vedo dei serinoidi e il falconiformi prevalentemente questi due possono essere in 40 60 40 felinoidi 60 falconiformi e di l e dl ci sono non direttamente su di lei nel senso che li vedo che girano nel suo luogo di lavoro ce ne sono molti ne sono molti sono lì fermi di fermi quindi lei quando va in questo posto di lavoro ma lavorare spesso è come se li si attaccassero addosso quindi come se la stessero lì con lei e non solo anche con i clienti e arriva arrivano anche attraverso alcuni clienti e alcuni clienti li portano con sé quindi ma c'è proprio un giro abbiamo permesso di amma di dire che le lavora a un ristorante assolutamente normale che nel ristorante ci sia un giro di interferenze di tutti no di persone che vengono di persone che ci lavorano adesso le analizziamo tutte bene ma vabbè vediamo l'entità mentali se ci sono le accennate mi sembra ci sia ci sono allora io ne vedo due ne vedo una di livello 4 e una di livello 6 vediamole 4 allora la quattro io la vedo come una forma diciamo umana umanoide ed è un uomo alla forma di un uomo diciamo così interferenza quattro interferenza vogliamo chiamarla proprio di suggeritore la chiamerei io la chiamerei di suggeritore che ha questa funzione qua di non lasciarle completamente il timore delle sue decisioni delle sue scelte per cui è come se fosse aiutata o suggerita a volte manipolata nel pensare quella cosa quindi il pensiero non arriva per per una come dire una conseguenzialità di argomenti quindi che sono legati a quello che sta facendo ma le arriva in base al suggerimento per cui magari sta facendo una cosa le arriva suggerimento di un pensiero che deve avere e lei inizia il filone con quel pensiero quindi è slegato ha spesso totalmente da quello che sta facendo o da quello che dovrebbe fare per cui è come una manipolazione sicuramente per far sì che lei non a volte risulti confusa ma anche non non seguendo quello che il pensiero iniziale per portare a termine il suo compito del momento sia sia sviata anche rispetto alle decisioni quindi sia nell'azione quotidiana ma anche rispetto agli obiettivi futuri ma wing e potrebbe essersi l'amico immaginario o comunque una voce che am sente è un uomo militare lei sa alcune cose di lui dove abita si è sposato sia dei figli quanti di che sesso e lui l'aiuta le dice delle piccole cose quotidiane lei lo scaccia lo butta in un buco nero ma non serve e poi vede che effettivamente i suoi consigli sono validi non so con proprio patate per il ristorante il prossimo mese venderai molti più dolci che ne so cose così insomma non numeri dell'otto sì oltre a questo si devo dire che corrisponde corrisponde a lui devo dire che le dà le dà dei suggerimenti rispetto delle cose quotidiane delle piccole cose quotidiane ma anche le dà delle indicazioni rispetto delle scelte future quindi come dire tenendo due giuste in modo certo che possa fidare e in modo che poi la scelta la decido io è la regola pnl usata ovunque questa una mano da una mano togliono qui in realtà può essere possono anche essere due mani danno e una toglie è la regola che caratterizza il contenuto di quasi tutti i libri se non di tutti i libri cose vere cose false anche non volontariamente insomma trovare il libro della verità impossibile quindi anche quando mi chiedono consigliami un libro libri sono tutti validi e tutti non validi non ce n'è uno che si salvi sta a voi cercare da soli con una ricerca personale quello che è meglio per voi e leggendo studiando capire quello che da tenere quello che da buttare bene wing chiamiamolo se esiste cioè la domanda è un'entità mentale che si utilizza sin entità o militare è un entità mentale non c'è un corrispettivo di un uomo che realmente esista con questo nome quindi un entità mentale e una programmazione viene da dire questo come fosse un programma di disturbo che è stato messo lì affinché lei possa non raggiungere gli obiettivi che si prefigge ok vabbè wing vuol dire ala e adesso analizziamo la sei identità mentale e lei ha visto delle piume nel ristorante che l'hanno molto infastidita c'è un nesso il nesso delle piume più con i falconi formi si non c'è un nesso con lui direttamente a questo quindi wing non esiste quindi le entità mentali riescono a creare un'illusione del genere anche sì sì riesco riuscirebbero a creare anche un'illusione visiva non è questo il caso cioè nel senso che allora quello che allucinazioni come allucinazione quello che le succede spesso è del sentire c'è una parte è messa da questo problema mentale ma una parte messa da una sua parte di empatia e di creazione per cui il fatto di vederlo in questo modo delle volte di poterlo vedere in un posto anziché un altro sotto il tavolo anziché è legato alla a come lei riceve l'informazione c'è delle sue caratteristiche che si uniscono al programma perché il programma non dice che lei deve vederlo dice che lei deve sentirlo e che deve richiamare molto la sua attenzione per disturbare così o perché lei si possa fidare ma il fatto di vederlo è legato la sua percezione alla parte che aggiunge lei ok entità mentale numero 6 l'entità mentale numero 6 è un'entità che è legata allo scontro con le persone cioè ha la funzione di far sì che lei non sia in equilibrio nelle relazioni cioè non sto parlando tanto dei clienti col marito con le relazioni più strette con la famiglia è adibita a far sì che è attivata quando lei ha dei momenti in cui si sente come come fossero un po delle fasi alcune fasi di ossessione quindi si sente che ce l'hanno contro ce l'hanno tutti contro di lei con lei ce l'hanno vedi questa persona sta facendo opposta per questo sta parlando male di me ecco quando si attiva questa parte lei entra in questo lupo diciamo in questo in questa sensazione forte e quindi si allontana dalle relazioni si ritira in sé perché si sente non accettata si sente non apprezzi non apprezzata e come una cosa ossessiva non le capita spesso ma le capita ed è legato a questa parte ed è forte ed è forte però come si chiamano come si chiamano le due entità mentali allora l'entità mentale numero 6 mi viene da dire al 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 e la 4 e la quattro mi è arrivato neos neos così come si scrive come si dice vibrazione di am vedo 4 miliardi per cento le di consapevolezza 55 per cento psp 30 per cento la ps e 70 la pia vite precedenti e da 2.560 e cervello allora cervello vedo 3,8 per cento va bene ci sono impianti eterici ne vedo uno lungo la colonna vertebrale si uno che è sistemato praticamente che la volge che la stringe la costringe e che ha un effetto anche si radia su dei nervi che sono legati alle gambe entrambi le gambe come se le do l'indolenz tisse e li li stringesse li tirasse un altro impianto è legato al braccio destro nella zona alta fino a qua dalla spalla fino al gomito sotto il gomito e un impianto c'era ginocchio sinistro che va a irradiarsi fino al piede sinistro quindi compresa la caviglia sinistra mentali sono rari a volte ci sono a volte no non la vedo gli edl collaborano con le entità mentali cioè le entità mentali come fanno a lavorare su di lei quali mezzi utilizzano quali vettori abbiamo visto a volte che sono gli edl a volte sono gli impianti mentali che però non ci sono cioè chi è che suggerisce chi è che fa wing c'è qualcuno che fa wing è un edl non ti sto suggerendo la risposta tutti nei commenti perché ormai qua che un fischio non si sente concentrateli su con la sostanza non sul fischio siamo continuamente interferiti no non vogliono che facciamo questo lavoro quindi l'abbiamo capito andiamo avanti allora wing è progettato cioè come com'è che agisce agisce mi si completa il quadro ammettati dicono dunque oggi wing agisce su un'area del cervello che non è in questo momento preposta niente cioè nel senso che non è tra la percentuale utilizzata ma tra la percentuale non usata e come se sante interessante è come se non la vedo come impianto quindi messo di fisso è una cosa che è ora mi viene da dire questo che a programmi come questi facciamo conto sul cento per cento dell'uso del cervello c'è una parte che ne usiamo che minima e ci sono come dei programmi che sono inseriti che per alcuni sono disattivati però ogni tanto partono perché sono programmati no però è come se fosse un programma che è inserito ma non mi viene da dire come impianto mentale ma è come se fosse già programmato per attivarsi da un certo momento in poi in un'area del cervello che non è utilizzata quindi non è preposta per la scrittura per la creatività è un'area legata al programmi a volte si parla di dna spazzatura dn3 dna e dna si potremmo coniare questa nuova espressione brain trash o trash brain quindi il cervello spazzatura quello che viene lasciato lì si è morto dal 90 85 minimo 85 a 90 95 anche 98 ci sono persone che utilizzano il 2 il 3 per cento del cervello una di questo è un disco no è un hard disk diciamo che la disco non è un vero hard disk non è una memoria basta una di queste parti di questo disco di questo di questa struttura viene utilizzato dall'entità mentale molto interessante prima volta che vediamo una cosa del genere quindi non c'è soltanto il carrier e dl non c'è soltanto e o il eventuale impianto mentale che non c'è sempre c'è quasi mai c'è una volta su 4 95 e c'è questa struttura come si chiama il progetto di am a cui è sottoposta am da tutti questi qua nel progetto è unico allora vedo un nome che sembra voglia dire altro in inglese però è un lollipop non è lecca lecca esatto perché lo che ti viene sì rispetto ad impianti metali alla parte mentale ma perché in particolare rispetto a wing è come se desse allora come se questi fossero messi lì per far sì che noi abbiamo una parte a cui possiamo affidarci una parte una parte che è come facessero un po l'azione dei dolci diciamo così da una parte di assuefazione e dalla parte di contro indicazione di effetto quindi quello che fa luce da da un sentore di guarda che non sei sola guarda che puoi affidarti guarda che se solo mi lasciassi parlare non dovresti fare tutto tu quindi come un un una dipendenza affidati ti esorto ad affidarti sì 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 sono il lato guida sì come una dipendenza mi viene proprio il parallelismo rispetto ai dolci e le zuccheri no molto brava stefania molto molto brava hai beccato il problema di amma che la volta scorsa non abbiamo individuato non abbiamo assolutamente trattato per altri motivi le entità mentali e invece questa volta è proprio lì con la pinzetta siamo andati a trovare la spina di rosa infilata in un posto ricondito ok piume di volatile non sono così importante le abbiamo viste lei va abbastanza in paranoia mi ha scritto una mail tutta preoccupata quando qualche mese fa vede con questi adesso non ricordo ma anche un banco più comunque questi questi programmi the voice non era the voice dove dove gli dove le persone fanno dei numeri e vengono votate con i pulsanti da quattro giudici massoni talent show italy angostale ma lei non è in italia e c'è qualcuno che fa praticamente una esibizione che di fatto è un rito adesso non c'è frega niente di capire se era un rito oppure no tanto ci sono riti tutti dalla mattina alla sera anche alla luce del sole come milano e la sua è il sagrato del duomo insegnano che veramente se ci pensate cinque minuti solo due anni fa era assolutamente impossibile oggi non si stupisce più nessuno ma dicono si è normale e cosa è successo in quel caso perché lei è andata in paranoia non questo è un rito oppure no perché di fatto perché lei è andata in paranoia perché lei si è molto preoccupata e fosse fatta delle domande tutto sommato anche abbastanza scontate diciamo che fosse un rito ma tutta la televisione un rito no di abbassamento della vibrazione per esempio è andata in paranoia perché lei ha avuto un'immagine visiva di quello che stava vedendo quindi questo spettacolo e la persona che lo stava guardando no però il suo campo energetico ha rilevato altro ci ha rilevato che quello che stava avvenendo era un era un proporlo come normalità quindi al pubblico quindi farlo entrare nella quotidianità dell'abitudine ma quello che stava arrivando a lei quello che stava vedendo energeticamente era che la persona davanti alla televisione era venuta era stata agganciata da quello che era il messaggio della televisione quindi aveva avuto un effetto su di lui stava avendo un effetto su di lui ecco l'immagine che vedo di quella scena una televisione questa persona come una mano cresce della televisione energetica diciamo così del messaggio che doveva passare quel momento e un prendere tirare energia da parte di questa persona che era seduta quindi immagino che la raccolta si è venuta da ogni televisore a ogni persona non nello specifico non c'era lui di me come mira unica chiaramente il programma ma ogni persona che vedeva doveva essere agganciato una parte energetica doveva essere assorbita quindi l'esercito perché l'esercito vedendo la scena perché il suo corpo energetico avvertito l'energia che usciva ed entrava nella televisione quindi l'immagine potrebbe essere un'immagine nella norma diciamo di tanti programmi di aggancio di tanti programmi però il fatto che lei l'abbia percepito con uno dei suoi corpi diciamo la messa in allarme quindi quello che l'ha allarmata non è stato tanto quello che ha visto perché succede se non quotidianamente quasi ma il fatto di averlo percepito col col corpo col corpo energetico insomma sensibilità si quindi ha avuto un impatto su quella parte e quindi su tutto anche il corpo fisico come fosse proprio un pericolo e quel momento ci fosse un pericolo e di fatto c'era un pericolo però non l'avrebbe avvertito solo con gli occhi ok finiamo al lavoro punto uno hanno un ristorante non riescono a venderlo mai da anni è un ristorante che va in realtà molto molto bene e che è frequentato da personaggi importanti della sua città della politica di dell'economia della chiede la religione la chiesa alla molti edl entrano con i personaggi della chiesa quello che vedo non entreranno nel ristorante così però io li vedo come uomini di chiesa quindi vestiti con l'abito e che esportano sinistra destra proprio accompagnati come una schiera e alcuni hanno anche l'incarico di rimanere lì c'è ad alcuni questi personaggi questi preti questi uomini di chiesa lasciano l'incarico di rimanere lì e di ascoltare discorsi per poi a tornare lì e riprenderseli come dei servitori e ci sono ci sono tuttora ecco quella era la domanda scusa la domanda perché non lo vendono ok allora intanto è tanto abitato per cui le persone che vengono a vedere il posto hanno una cattiva impressione quindi proprio nel senso proprio vero del termine nel senso che rimane impresso su di loro una sensazione del posto che non è buona per cui quando escono nel momento in cui escono non rientreranno ci decidono che no è bello il posto e c'è una buona clientela però non a livello percettivo non hanno una buona sensazione consapevolmente o no la maggior parte non sono consapevole di questo però per via di questo traffico di dire quindi se i clienti in sostanza perché va bene anche l'uomo della strada può avere i suoi edl che insistono eccetera però di fatto è il personaggio famoso il personaggio importante che ha quelli un pochino più alti di scala che ha quelli un pochino più astuti il circolo vistioso non avrà mai soluzione non si verrà mai allora diciamo che allora non so se le dl al pari di virgolettiamo di uno spirito guida ma ci sono dei personaggi che entrano nel locale di chiesa che hanno delle dl dell'entità che lavorano per loro cioè al loro servizio per cui io ti porto con me a cena cioè li portano diciamo no li lasciano lì e dicono osserva quello che succede vedi chi viene dimmi chi chi ecco quindi e poi li richiamano a andando lì o meno perché non hanno bisogno certamente il tramito umano per spostarsi però allora loro lasciano l'incarico per cui soprattutto un personaggio due personaggi fanno questo lavoro qua da tempo quindi quindi come faranno vendere questo lo vedremo diciamo che la causa esotrica del fatto che non riescono a vendere diciamo è questa questi personaggi hanno delle responsabilità anche no causa esotrica del conflitto col marito allora bene si amano tanto ma sono sempre lì a fare sincale in particolare c'è l'entità mentale numero 6 che che fa sì che le relazioni strette siano molto in pericolo sempre molto diciamo sul filo sul filo perché spesso le si attiva quella parte che dice vedi non mi apprezzano mi ama vedi contro di me vedi quindi fomenta questa parte molto molto lo fa col marito succede anche con i figli o con il figlio e con i parenti stretti quelli più stretti con gli altri no riesce a essere più in equilibrio proprio in particolare diciamo col marito questa parte si si manifesta si manifesta più che con tutte le altre persone a volte anche con i dipendenti succede come se le capita come se quando non c'è loro potessero confabulare questo è sempre legata all'entità numero 6 ok e veniamo a una dipendente di origini algerine la dipendente stessa confessa adam che nella sua famiglia si fanno lavori magici e lei ha notato che quando c'è questa dipendente che da un punto di vista lavorativo è perfetta non ha nessuna pecca alcune cose vanno male si rompe una macchina una fornitura non arriva si rompe una sedia e così via se non ha una logica perché in realtà la ragazza vuole lavorare lì e quando lei non c'è non so forse vuole farsi assumere a tempo indeterminato magari non è neanche le sue intenzioni allora è legato a lei si questa cosa ma non è una cosa che fa lei nel senso che una cosa che vedo che fa sua madre o sua nonna insomma c'è una figura femminile che lavora su questo lo scopo di questo lavoro fatto che quindi ecco funziona sì in modo simile agli edele di prima no lei torna a casa facciamo conto la prima volta che è andata a casa o che ha iniziato a lavoro lì aveva questo edele o questa entità che era preposta a far sì che tutto la ragazza la ragazza si porta ha portato con sé questo lavoro fatto non da lei però è come se l'avessero chiamato una benedizione ti facciamo una benedizione ok allora lei va lì al ristorante porta con sé questa benedizione la benedizione che scopo a quando lei è lì tutto fila liscia senso che è tutto tranquillo tutto calmo c'è un'armonia quindi voglio dire a una funzione che grazie al me sì peccato che quando va via rimane lavoro lì perché in positivo che quando lei c'è tutto deve filare bene ma è negativo che quando lei non c'è deve sentirsi la sua mancanza cioè il fatto che lei non ci sia quindi lo scopo è quello o di farlo assumere o comunque di sentire che lei di valida e se non ce l'è necessario giusto e se non c'è lei le cose non funzionano e si balli da necessario tutte e due capisco capisco però in effetti mi mancava la parola necessaria indispensabile addirittura va bene nord africa in tutto il mondo si fanno queste cose anche lì in particolar modo in modo da avere questa nipote questa figlia che lavora e quindi ha un futuro assicurato va bene sogni di essere a londra di am allora sto vedendo londra come ambientazione di cui lei e lei va ma non lo vedo come un sogno lo vedo come un ricordo lo vedo come un ricordo ma l'ambientazione che sto vedendo io l'ambientazione di qualche secolo fa nel senso che come se ci fosse un collegamento tra lei e londra perché c'è già stata in una vita parallela diciamo passata e lei è già stata lì ha vissuto già un esistenza non tre volte di tre tre volte ha fatto questo sogno o tre volte scrivimelo a ma nella skype non lego il labiale mi spiace scriviamelo qui non scrivo lei dovete ho scritto le f ok quante sono le vite vissute a londra su 2560 5 5 la sua ps perché le fa ricordare su 2660 vite proprio quella di lo quelle di londra una delle cinque o tutte e cinque di londra allora lì c'era una delle vite in cui aveva già una relazione un rapporto con suo figlio e quella che che sto vedendo è praticamente di qualche secolo famiglia di 1.600 1.700 più 1.700 in cui lei era un era un figlio era il suo aiutante erano molto legati e c'è questa situazione qua che vedo ricorrente quindi andavano a salvare delle persone in giro quindi venivano chiamate con la loro valigetta e con degli strumenti molto diciamo rudimentari e c'era già questo legame c'è c'era questo legame molto forte tra i due tra loro due e quindi più che questo tende a fare ricordare la ps londra come ambientazione più che ricordo di per sé domande spot causa esoterica delle ciste al seno e alla caviglia capiglia sì sì allora della caviglia io lo vedo una parte collegato all'impianto che ha sul ginocchio sinistro che va ad estendersi giù fino al piede e che non le permette di appoggiare di appoggiare bene il piede dunque a me io più che una ciste rilevo una cosa come fosse dunque un'infiammazione di un tendine una una parte di tessuto molle ecco più che l'osso e che a forza di appoggiare male il piede collegato a questo impianto che ha si è formato come una sovrapposizione è una cosa che può passare sul piano fisico sì è una cosa però che è legata con l'impianto lì è come un'infiammazione proprio l'infiammazione di un tendine anziché è una sporgenza però è una cosa che che può essere risolta mentre invece legato al seno ti sa dire quanti ne ha con un segno delle dita due ma questa la parte la vedo fisica e la vedo come se ci fossero dei dotti che si sono chiusi cioè è come se fosse un rimasuglio dell'allattamento dell'allattamento cioè come se non fossero delle cisti che sono nate che sono nate a parte ma come se fossero dei come si chiama delle delle ghiandole delle ghiandole in cui erano dei dotti diciamo dove bastava l'atte per dire no che si sono come chiuse tappate si poi non sono più utilizzate come se si fossero indurite solidificate però le vedo legate a questa parte qua quindi un post allattamento quindi come fosse una cosa che negli anni seccata è diventata dura è diventata che non ha più una funzione quindi però una parte di una parte proprio di ghiandola di ghiandola ma vedo così causa esoterica dell'aumento di corvi da quando ha prenotato a oggi è la parte legata ai falconi forni falconi forni causa esoterica della voglia di disdire la sessione due settimane fa mi sembra quando di fatto non c'era nessuna ragione insomma è legata al alla parte mentale quindi la numero sei ecco il pensiero che lei ha avuto legato al disdire e ma chissà se poi risolvo chissà se proprio i dubbi quindi questa parte le ha fatto venire dei dubbi chissà se capiranno quali sono i problemi chissà se parte proprio legata al dubbi che poi è stata bypassata ultima questione quando incontro delle persone almeno in passato e in base alla persona che aveva davanti lei che è molto empatica le veniva da creare nella sua testa un insegno dell'infi di un colore diverso a seconda della persona che va davanti quindi non so arrivava giovanni e lei lo faceva blu arrivava francesca e lo faceva rosso e così via e in qualche modo stabiliva una forma di pace energetica con questa persona no una specie di accordo una specie di non aggredirmi io non ti aggredisco non tu sei da te io sto da me e c'è questo segno dell'infinito e poi lei si è incuriosita molto quando io ritornando nominato impnosi esoterica infinitum sì allora questo lei lo fa perché riesce a sentire la parte che manca in quel momento nel rapporto nell'incontro facciamo conto che ci sia lei ci sia un'altra persona c'è una discussione anziché c'è un attrito o lei percepisce che ci sarà che delle volte lo fa anche prima di incontrare una persona che sa che potrebbe essere particolarmente fastidiosa lei inserisce la parte che può tranquillizzare nel senso che è come come se lei percepisse consapevolmente un'aura intorno alla persona o intorno a sé e percepisce il punto di incontro di contatto tra le due tra i due corpi sottili tra i due corpi energetici va a mettere la parte che manca quindi va facciamo conto se vede dell'altra persona in quel momento c'è un grigio c'è un'attivazione di un colore che sta legando lei l'altra persona è come se andasse a inibirla o andare a compensare col colore che va meglio in quel momento perché ogni colore è legato una vibrazione anche un sentimento secondo il discorso del laurea per cui se ci sono che ne so dei dei lampi dei fulmini che ne so di giallo può voler dire un discorso magari di rabbia anziché rosso anziché no a seconda di dove è collocato sulla testa in altre zone del corpo e per cui come se ne andasse a sanare la parte vibrazionale mancante perché lo scopo è quello di creare l'equilibrio quindi di essere in pace in armonia per cui se vede che c'è troppo giallo gli mette adesso un verde un blu ma lei lo fa non so se se ne accorge ma lei lo fa anche nel ristorante quando vede che c'è qualche cliente che non sta bene o che ha un problema particolare o che o che anche se non è relazione con lei non sta parlando di qualcosa in particolare ma vede che non sta bene o le arriva a questo messaggio inconsapevole lei crea questo simbolo dell'infinito e mette il colore per far sì che possa stare meglio quindi questa parte di creativa ce l'ha inconsapevole parzialmente inconsapevole ma lo fa molto più spesso di quanto di quanto le pensi di quanto se ne renda conto ok chiamiamo come disincarnato l'amico la persona anziana ormai un amico di famiglia che è venuto a mancare si lo vede lo vedo è contento contento di essere qua è contento di essere stato chiamato di essere stato scelto dice io vedo che l'immagine che mi rimanda e che appoggiato un po a un bastone nel senso che si appoggia sul lato sinistro con un bastone ok vuole dire qualcosa adam mi dice che lui l'ha considerata come una figlia che l'ha considerata come una figlia e che le ha voluto bene e che è stata una delle poche persone l'ultima della sua vita da accoglierlo e dice anche se la prima impressione non era stata come l'ultima nel senso che non avrebbe mai pensato dalla prima impressione di che sarebbe creato questo legame e che la portata invece a pensare che lei fosse con una sua figlia lui è andato via per sua volontà perché a questo sempre però se l'aspettava dice che era stufo era stufa nel senso che non si aspettava che sarebbe venuto così in quel modo ma quando ha visto che ha iniziato a stare male e ha scelto di andare via velocemente ma dice che è stata una cosa breve una cosa proprio molto rapida è una cosa successa non da molto è ancora attaccato alla terra giusto no 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 ok apriamo il portale aureo si vuole può approfittarne passare attraverso il portale auro diventare essenza energetica e non uomo donna amico amica nonno nonna marito moglie può spogliarsi delle sue interferenze può mantenere tutte le informazioni che ha raccolto finora togliendosi diciamo è come se fosse un gioco un videogioco i ragazzi mi capiranno più forse degli adulti dove si acquisiscono dei poteri o si perdono dei poteri a colui è carico di pesi in questo videogioco che sono i sensi di colpa il karma gli impianti non ha disincarnato no però lenti tassi che sono lì pronte a riproporli con la scusa della religione del karma del non so che o dei contratti ecco lui passa attraverso portale ai popoli e una nuova avventura per sempre più pesante sempre più pesante con il portale aureo lui si libera di tutto e dopo di che deciderà lui pulito se incarnarsi in una cavalletta non incarnarsi più incarnarsi in una donna in un uomo quando come perché libero di continuare e scegliere con questa follia o fare altro sì sì lui sta passando sta passando si è avvicinato piano piano ma con una camminata regolare è proprio entrato e mentre entrava è come se la parte che vedevo quindi del corpo fisico con questi pantaloni color crema tipo di velluto costine vabbè si dissolvesse quindi come se la parte fisica le particelle tornassero indietro venissero verso di me insomma incontro così e di là si entrasse quindi se si spogliassi proprio veramente di tutto l'involucro se si è entrato ok era tranquillo proprio lo salutiamo allora bene con ama finalmente possiamo andare per l'ultima volta e definitivamente a fare il lavoro finale cosa vuole fare lei allora lei mi porta mi fa vedere una tenda ed è una tenda è una tenda di quelle con la zip per cui entra lì e ci sono come delle e verrebbe da dire da una tenda da circo però è molto più piccola entra lì dentro e vuole ci sono dei palloni dei grandi pallone con dentro altre cerniere con dentro delle dei contratti ecco e come fosse vedere come fosse una vasca siccome ci fosse una vasca piena di quelle palline dove ci si butta dentro e ci e si gioca diciamo quelle che ci sono i parchi non si che così allora li prende si è buttata dentro questi contratti come se ogni pallina fosse un contratto colorate c'è rossa blu gialla verde tutti colori si è buttata dentro e all'inizio le schiacciava uno a uno come se la plastica diventassero inesistenti come se si scoppiassero e poi è uscito dalla vasca e ha anche se non era una piscina ha aperto un barco sotto e li sta facendo tutto andare giù ok via tutti quando li ha tolti tutti dille senza insegnarglielo di farsi una d'eternum vediamo se lei che ha visto tante sessioni tutte mi sa linee terrico lo so fare allora lei aveva vedo adesso che aveva come una di quelle ecco assomiglia un po quella valigia che aveva il dottore è però una tracolla questi quella del dottore va con il manico invece questa una tracolla tipo di pelle o di cuore e l'apre e tira fuori la d'eternum lo tira fuori da lì sì di fatto questo è un gioco che lei lo apre apre la borsa e lo può creare aprendo la mano lei lo può creare basta le dice l'ho creato ed è lì poi anche il fatto che alcuni aprono la mano lì c'è come fa elena per esempio come vede elena semplicemente un qualcosa in più per il gioco per funzionare gioco meglio va bene ma penso che lei voglia tirando fuori una valigia che è praticamente uguale a quella che aveva a londra come dottore penso che intenda che anche la è andata a illuminare ha piazzato anche una d'eternum la questo interno ma non illumina il cluster diciamo che lo mette in sicurezza a un'altra vibrazione le altre vibrazioni non piacciono a entità o altri quindi l'alta frequenza è come dire anche io da adesso in poi voglio che non ci siano più contratti non ci siano più vite non ci sia una situazione di sicurezza lo lasciamo qui e andiamo all'avatar sì allora vedo che c'è uno centrale un avatar centrale e due di lato quindi uno seduto alla sua scrivania di schiena e due che stanno guardando lo schermo in piedi di schiena 2 sì e come fossero due osservatori uno di schiena seduto che digita ea questo schermo davanti e due in piedi una sinistra oa destra che guardano lo schermo ma ok vabbè l'avatar è quello seduto che digita gli altri due saranno non so chi li prendiamo tutti e tre perché interferiscono con una mamma si viene un portale tutto e li stava già prendendo così come fossero dei fogli di carta dalla testa nella testa sì sì solo di sinistra e quello di destra che non portare via l'altro la cartocciata attenzione anche al computer la scrivania la sede al mouse la tastiera tutto quello che si vede di volta in volta quello con un colpo di mano l'ha fatto andare via tutto il resto che c'era non c'è più niente ok mettiamo anche qui una d'eternum sì fatto promesso ok con questa nuova condizione ci sono ancora felinoidi falconiformi gli edl che interferivano diciamo con lei ne ho se palla le due entità mentali la parte di cervello spazzatura utilizzata dall'entità mentale 6 il progetto lollipop eventuali abduction e cloni che possiamo analizzare no tanto poi le togliamo tutte c'è ancora qualunque cosa no non c'è più niente ok tutta pulita lei adesso se ne fa altri sei di ad eternum il primo lo lascia nel suo ristorante così edl scocciatori ne saranno infastiditi dipendenti con parenti magici magici che fanno magie di fatto nera perché incide su altri si possono lavorare inutilmente perché la d'eternum vince su tutto questo bello grande lo lascia nel suo ristorante ne fa 7 un altro lo lascia a casa sua gli altri cinque li mette invece nei suoi cinque corpi fisico mentale e emozionale eterico e subliminale fisico dimmi dove lo mette fisico l'ha messo qua l'ha messo qua dove c'è la gola e l'ha messo lì per aiutarla anche nella parola nella parola con le persone per non entrare come dire dire quello che è necessario e non quello che gli arriva anche dal gli arrivava diciamo dalla dell'informatore dal suggeritore cioè lei dice che vuole essere sicura che nei rapporti nelle relazioni anche con i clienti lei dica quello che serve non quello che qualunque cosa ecco quindi lo mette qua a livello della gola sul corpo ok nel corpo mentale a che altezza lo mette la mette all'altezza del cuore verso il lato sinistra lì dove c'è dove c'è il seno sinistra nel subliminale va bene subliminale dell'emozionale questa grande empatia e la mettere lo mette all'altezza del plesso solare quindi sotto il cuore qua questa zona qua centrale il discorso empatia come lo vedi se lo vedo migliorato o no se lo vedo al discorso empatia è presente è presente perché una cosa che a lei può servire non l'ha eliminato cioè non è stata modificata e modificata la comunicazione rispetto all'empatia nel senso che l'empatia poi anche con l'ad eterno messo qua in questa posizione qua le riesce di più a gestirla sente lo stesso scusate ecco sente lo stesso però riesce a gestirla e a tenerla più all'interno di se in modo positivo quindi a l'aiuta a capire cosa succede e non interviene nelle relazioni dove non serve ma con quella d'eterno un po che ha messo nell'altezza della gola proprio legata alla comunicazione per cui va ad equilibrare tutta quella parte ok nel corpo eterico e nel corpo subliminale bene nuova vibrazione allora la vibrazione di adesso vedo cento 150 miliardi nuova consapevolezza 220 per cento chiesse pie adesso la ps diventata 60 e rapi e 40 vite precedenti vedo 400 490 vite le ridotte di un quinto c'è rimasto un quinto ok c'è bello cervello passato a passata 8 8,2 molto molto bene ci sono delle tecniche per aumentarlo nel suo caso ma nel suo caso mi viene questo che per lei il creare ad eternum è una cosa importante c'è una cosa che può fare la differenza del continuare ad aumentare la percentuale del cervello perché quando lei li crea non lo crea solo come come l'ha insegnato tu ma unisce delle parti sue di empatia di creatività per cui il farlo le attiva delle 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 parti del cervello che sono inattive adesso come quando faceva come quando faceva l'infinito colorato si unisce questa su quella sua competenza con la tua tecnica bene quindi messaggio finale della ps piedi di am finale generale libero e soprattutto in relazione a questa sua capacità creativa che è molto interessante si è la pie che parla e dice di avere fiducia nelle cose che sente di avere fiducia in quello che sente lei e di che in questo modo non lascerà spazio all'esterno perché vero è stato tolto tutto ma la sua mancanza di fiducia non dovesse avere fiducia quando la fiducia è molto recettiva dai suggerimenti consigli esterni che non sempre sono adatti a lei ma alla sua persona e alla sua vita quindi dice di avere sempre continuare avere sempre più fiducia in quello che lei sente quelle che sono quelle che sono le sue percezioni rispetto al da farsi e quindi le invita proprio a anche sperimentare che quando le viene in mente quando una domanda di come risolvere qualche cosa di stare ad ascoltare la sua risposta interna e di metterla alla prova no ma è solo una cosa per far sì che cosa che lei si alleni a sentire sempre di più la sua consapevolezza e la sua saggezza e le sue parti interna che in passato hanno faticato a venire fuori per cui dice le da questo consiglio dice ascoltati e andrà bene va bene come la vedi tanto colorata tanto colorata tanto colorata la vedo che per come si presenta a tanti colori intorno tanti colori intorno a un bel verde smeraldo che circonda tanto da verde ma pronta tornare stefania abbiamo finito quindi disconnetti ti da tutto e tutti e noi torniamo